ciao a tutti oggi nuovo video su gorgeous che vedete qua sul tavolo dove è uscito il 20 novembre ma io l'ho preso 20 ottobre scusate ma io l'ho preso solo ieri perché sono riuscita ad andare alle gru a prenderlo ed è la seconda uscita che prendo di questo giornalino che costa 5 euro e 99 con i gadget inclusi allora questa volta c'erano i timbrini c'erano varie colori e fantasie io preso questo verde se non c'era blu e viola i timbrini sono così penso vediamo un po se riesco ad aprirlo così ve li faccio vedere e poi insieme c'erano i fazzoletti che io non userò mai ma penso nessuno se riesco ad aprire il dito dietro ok ce l'ho fatta ok eccoli qua un attimo che metto ok sono in plastica c'è già l'inchiostro e vai c'è l'inchiostro dietro no scusatemi c'è già l'inchiostro basta che mettete sulla pagina sul foglio ci riesco anche a infilare ok e sono fatta così vedete da fuori cosa c'è scritto e poi dietro c'è il timbro qui c'è questo questo qui e questo qui invece i fazzolettini sono 12 tre veli hanno anche lo scotch per chiuderli con il timbro gorgeous eccoli qua sono chiusi in due alette qua sono bianchi con i disegni eccoli qua sono tutti uguali ne apro uno così lo vedete molto carini e penso che siano uguali per tutti quindi sì comunque la confezione molto carina guardiamo un attimo il giornalino allora questo è il numero 5 ma questo è il secondo che prendo ci sono due poster c'è la sezione crea e i test qui c'è la pagina per creare segna porta se avete la cameretta questo è quello che c'era questa volta la magia della lettura infatti leggete 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 cosa c'è nel mio zaino e qua ci sono delle targhette per lo zaino l'intervallo con un test lezione di musica qui si può costruire un aquilone adorabili gattini e c'è un test un luogo tranquillo qui ci sono i poster che bello l'acconciatore scrive una lettera qui per costruire cosa colorare le foglie le candela candela di foglie animali nel bosco notte di halloween raccontami una storia e poi in edicola ci sono anche altre uscite con stickers e art book invece del 20 novembre c'è la terza uscita cioè la sesta per me terza per me e sesta c'è una morbida custodia in quattro diversi design la mini box di latta che carino a me piacciono tantissimo le scatole come mio padre e il portafoglio in regalo ah no no scusatemi dal 20 novembre c'è lo speciale in edicola col portafoglio scrapbooking invece del 20 dicembre c'è la stessa uscita la sesta di questa rivista con la custodia e la box di latta quindi segnatevi in agenda 20 dicembre e basta qui soluzioni poi c'è il kit di halloween e qua ci sono le uscite in libreria ok quindi in pratica è un mensile perché esce sempre il 20 di ogni mese ok per questo video è tutto mettete un pollicino all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao ciao